Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, grave lutto per la musica italiana, in questo video parliamo di un drammatico incidente che è costato la vita al noto personaggio e parliamo di un grave lutto per una delle band più popolari d'Italia e prima di sapere di più vi ricordo che a 400 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video, in questo video con grande dispiacere parliamo di un drammatico incidente stradale che è costato la vita al noto personaggio, un personaggio molto noto nel mondo musicale italiano e con grande rammarico che il primo anno di Marco Liguori annuncia il decesso di Barbara Vitali, era la manager del volo e purtroppo ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente avvenuto a Gaggio Montano, Barbara Vitali si è spenta il 9 luglio 2024 all'ospedale Sant'Orsola di Bologna e sui social il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile ha voluto ricordare l'amata manager, lo ha fatto con queste parole, ci ha insegnato gentilezza, generosità e professionalità e il primo anno di Marco Liguori con grande dispiacere ricorda Barbara Vitali di cui funerali sono stati svolti ieri nella Basilica di Santa Maria dei Servi a Bologna ricordiamo Barbara Vitali mancata a soli 54 anni a seguito di un drammatico incidente d'auto e amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul secondo livello di Marco Liguori, il canale dei video di cronaca, seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale, ciao a tutti